ciao benvenuti in un nuovo video della soffitta di lala e poi questo è un video speciale perché me l'hanno richiesto e anche ho visto che il video dedicato ai 15 è stato molto apprezzato quindi ho deciso di farne un altro nell'altro video che forse avete avuto il piacere di vedere vi mostravo il mio libro preferito dei 15 questo qui che è del fare e del costruire in cui si possono vedere appunto tanti lavoretti ma anche ricette che si potevano fare un sacco di anni fa siccome mi è stato richiesto di far vedere altri libri ho pensato di fare un altro video in cui vi facevo vedere gli altri tre libri che mi piacciono particolarmente se volete recuperare l'altro video in cui vi parlo un po della storia e faccio anche un po di prediche potete farlo e vi lascio il link sia nella i qui sopra che nell'info box ne vi farò vedere rime e poesie poi vi farò vedere fiabe e racconti e poi vi farò vedere quello che io chiamavo degli animali ma si chiama la vita intorno a noi cercherò di fare un video senza musica solo con lo scorrimento delle pagine se nessuno mi interrompe altrimenti se sentirete la musica vuol dire che qualcuno mi interrotto e ci sono dei rumori clamorosi come potete vedere qui vicino c'è un'altra enciclopedia si tratta del tesoro di cui non ho parlato fatemi sapere in un commento se può interessarvi e posso fare un video dedicato grazie di aver visto questo video e di seguirci sempre qualora abbiate delle curiosità delle richieste potete sempre scriverci un messaggio seguiteci sia qui su youtube ma anche su instagram e su facebook tutti i link sono nell'info box buona visione 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 Grazie. 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 Grazie.